La Chiesa nella liturgia dell'Epifania condensa altre manifestazioni di Gesù, ossia appunto la prima manifestazione che è quella ai Magi, quando Gesù era ancora infante, la manifestazione di Gesù nel Battesimo, quando appunto il Padre, la voce del Padre, e rompe indicando Gesù come il prediletto, il figlio suo prediletto. E poi le nozze di Cana, che celebrano l'ora, già in qualche modo anticipano l'ora della croce, con il miracolo dell'acqua cambiata in vino, dove la Madonna intercede per l'umanità, che è rimasta senza il vino della gioia. Ecco, c'è un autore, Giovanni Baronzio, che è della prima metà del 1300, che ci regala una stupenda adorazione dei Magi. Egli ha anche dipinto il Battesimo di Gesù, quindi queste due manifestazioni che sono tanto vicine nel tempo liturgico. Il Baronzio condensa in quest'opera che è del 1326, la natività di Gesù, l'adorazione dei Magi, e Gesù che viene lavato nell'acqua come ogni piccolo, come ogni bambino appena nato, sotto lo sguardo stupito delle levatrici e di San Giuseppe, che lo vedono assolutamente in tonso, senza nessuna traccia di sangue, come accade ai nascituri. Ecco, in questa adorazione sono condensati tutti i valori di questo giorno liturgico. Anzitutto ci sono sullo sfondo gli angeli che annunciano ai pastori la nascita del Salvatore. E questi tre angeli sono che sono idealmente quelli che accompagnano i Magi a incontrare Gesù e quindi a vedere quel segno grande che oltre alla stella è la Vergine con il suo Divin Figlio. I tre Magi sono, come la tradizione vuole, Gasparre, Baldassarre e Melchiorre. Gasparre è il più giovane, molte volte è, soprattutto dopo la scoperta dell'America, dopo la vicinanza dell'Italia con le altre nazionalità, quindi anche l'Africa, è di solito realizzato come un moro, un re moro. Qui invece è un re bianco ed è sempre il più giovane. Porta la mirra, significata appunto nel corno nero che tiene fra le mani. La mirra indica la passione del Salvatore. Egli è il più giovane ed è quello che ancora un po' dubita come è uno scandalo quello della croce. Accanto a lui c'è Baldassarre che invece è vestito di verde e accompagna Gasparre a riconoscere il Salvatore. Egli porta l'incenso della preghiera. È il contemplativo che conosce e riconosce il mistero del Cristo, soprattutto nella sua divinità. In ginocchiato poi e vestito di rosso, che è il colore della passione, c'è Melchiorre, il cui nome di riva significa re della luce. E questo re offre l'oro, l'oro della regalità di Cristo, l'oro che si purifica col fuoco e dunque anche denuncia in qualche modo come la mirra la passione del Salvatore. La Vergine siede in trono e ostende il suo divin figlio. La carne di Maria e la carne di Gesù sono una stessa carne. Sotto ecco che Gesù viene lavato dalle levatrici e San Giuseppe lo attende con il suo manto per asciugarlo. Questo gesto di Gesù che viene bagnato nelle acque rimanda appunto al battesimo di Gesù che il Baronzio dipinge in un'altra opera stupenda, dove Cristo è in piedi dentro le acque e il Battista lo addita come il Salvatore. Nel cielo, nell'oro del cielo, il padre indica il figlio suo prediletto. Ci sono due angeli che tengono le vesti del Cristo, sono vesti sentuose e sono due gli angeli perché indicano le due nature del Cristo, la natura umana e la natura divina. Ecco dunque che questa festa celebra la regalità di Cristo, la sua natura umana e la sua natura divina. Con la sua natura umana ci accompagna alla verità, con la sua natura divina ci assicura la gloria eterna e con la sua regalità ci assicura quel coronamento della nostra vita che seguendo la stella della fede non potrà mancare per nessuno di noi.